Ti servono crediti? Non sai dove acquistarli? TonyTubo può aiutarti FIFACoin.com E col codice Tony risparmirai anche un 5% sul tuo acquisto Link in descrizione La chiamerò, la chiamerò, la chiamerò Yeah! Hola e benvenuti in questo nuovo video Ciao ragazzi, sono TonyTubo Oggi siamo qui con un video molto, molto, molto speciale Perché questo video ragazzi lo registro in live Quindi non vi perdete le mie live streaming Iscrivendovi al canale e attivando la campanella Detto ciò, oggi avremo il 50 versus 50 50 player P contro 50 pacchetti 81 o più Solo su questo canale Iscrivetevi Cominciamo subito ragazzi Abbiamo fatto 50 pacchetti Due giocatori rari 81 o più superiore Abbiamo ragazzi nei pack disponibili le squadre per cammino versus la finale Ovvero Europa League e Champions League Abbiamo Baran, Pogba, Insigne In più abbiamo i Foot Freeze Gente del calibro di Santo Massimino E Dembele Osmane Che non si pronunciano così ovviamente Che costano più di un milione l'uno Quindi i giocatori devono bastanti E in più abbiamo il Team of the Week nuovo Con Suarez, Andanci, Benzemade, Mandoschi Dimmi da put the week Diciamo Accettabile In questi pack possono scegliere anche le icon Partiamo subito ragazzi E andiamoli A trovare Tutti i Foot Freeze Primo pack Il primo deve essere per forza quello che parte bene E infatti è partita una chiave Che cos'è? Norvegia? Oh il mio amico Degrado Degrado Land Che roba è? A essere che ha senso? Dai Oh che succede? E cammino verso l'Europa League 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 Che è? Cubo Che grandissimo cubo E ragazzi anche se non è un walkout Mannaggia La marina militare E ditemi voi qui nei commenti la nazione Abbiamo trovato il cubo Veramente Dai 43 Oh 8 pacchetti Questo è l'ottavo pacchetto Ancora un walkout non lo fai Cubo non è la walkout E' davvero Cioè Dai Dai Portogallo ATT Piemonte Magari Ora trovi due Mbappé Eee Magari Trovassi un amaretto di Saronno No io con la ciolta che tengo Trovo un altro Mannaggia Eeeh Vabbè dai Non male ragazzi Leno Un buon portiere 85 rated 10 pacchetti Non abbiamo trovato un walkout Mmm Mmm Però abbiamo trovato un cubo Vabbè Alla fine Leno e Godin Comunque abbiamo trovato due 85 Ne abbiamo altri Quaralla Francese Centrocampista centrale Difensivo Il signor Matui E dentro Il dì Allora ragazzi Siccome sto in live E l'altro voglio ringraziare Le 15.150 persone che sono in streaming qui con me E allora per rintrattenere le 15.000 persone in live Dai Si canta una canzone Voglio a te Ancora una volta Rimane stasera Rimane con me Voglio a te Ma quando Tedeschi Dici Iroba Iermon Che Trovo Non va ragazzi 18 pacchetti Ma non What up Cioè Non lo so Che volevo fare a Bob Bob Fermini Inghilterra Terzino Deist Walker E magari va bene A tutti Che le che dire Che a parte Walker Forse sono già Lo devo pure cancellare Oh Tenevo Scambiabile Pagato 74.000 Mo Se lo vende 39.000 Sono fortunato Ciao Walker Texas A me può anche fare Tutti i pacchetti Senza trovare Un walkout Basti Che la volta Che fai Walkout Non esce il solito Sergio Bruschette Di merda O il solito Verratti Ma mi fa uscire Un giocatore Hashtag Interessante Ti vuoi rendere conto Che non c'è Stavare Alla che Oh Cubo Cubo Amoriamo Ma Non è già già sfuga Ho trovato Cubo Non è possibile E basta Cioè Ma vi rendete Il mondo Che stanno 50 pacchetti Qua No No Ragazzi Vi rendete conto 30 pacchetti Ne hanno un walkout Andiamo avanti La walkout Mi fa Brasile E' Natale Alisson Bambra 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 38 pacchetti 38 pacchetti Aperti Un walkout Ma tu sei veramente Un villano Chi è il villano? La tua Ma che ragione Non ce l'ho già Capisci che se mo Oh walkout Un secondo walkout Che succede Francia Francia Ancetti Manneggiati da vivo Aretto Tutti con me Sarò Cantì E tu non devi Mollare Voi pensate che è una sculata? Oh Tony Complimenti Hai trovato un giocatore Non scambiabile Da 205.000 Crediti Peccato che se faccio Cerca giocatore Premier League Chelsea C'era già lo scambiabile IFO 89 Manneggia Marina Militare Bulgara Manneggia Forse si è sbloccato il gioco Ragazzi Adesso con un altro walkout Admirate Oddio E che è successo? Francia Ramos No Tià però Cioè Onestamente Già fra Spagna E' una merda Almeno si è giunto La Ramos 69 Guarda il ca**o Food Frigurifo Nel bel gestendo Dentro il sinistro Carrasco Vabbè Chi è Greg? Costantino Ragazzi Quindi Ultimo pacchetto Questa Carrellata Dei 50 Pacquettaturo Più E' finita qui E sinceramente Che dire Ecco qua Neanche walkout Quindi abbiamo trovato In totale 3 walkout Su 50 pacchetti Purtroppo ragazzi Con i pacchetti 8 a 1 o più Non c'è andata Tanto bene Ma a questo punto Allora proviamo Con il player pick Ed eccoci ragazzi Biaggiando nel tempo Si è arrivati Adesso Alle 50 Player pick Senza perderci In chiacchiere Iniziamo subito Ragazzi Dobbiamo battere I pacchetti I pacchetti 81 o più Dove abbiamo trovato 3 walkout E 4 85 Quindi Non è difficile Ti prego Ti prego Come non detto Beh 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 Uh Attenzione Marco Lino Royce Dai 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 Unif Può sempre servire Per l'SBC Bola 82 Voglio salutare Tutti i 17.600 Spettatori Che stanno In live streaming E gliela dedico a loro Andiamo avanti Avanti Modriccio E' il primo walkout Ladies and gentlemen Dai C'è uscito un walkout Dai Poi c'è un walkout C'è quando c'è un po' più Pura Cà Stai Pura Cà Non ce la posso fare Pura Cà Oh Noi c'è il biglini Prendiamo l'ignito 84 Altro 84 Felipe A me sembri troppi Io 84 83 Non mi dispiace Especialmente se non ce l'ho Anche gli 85 Come Milinkovic Questo per ora ha fatto Tre droppate Una meglio dell'altra C'è Tu sei numero uno Di miei E tu laschi 85 Non male Per ora siamo a metà dell'opera E abbiamo trovato 3 85 E un 87 Ultime 5 La scuola Non va Ibra La cosa assurda Sapete qual è? Che io mi sono avventato Dei faccio Ma qua Abbiamo provato un solo walkout Quindi Vendete Pronto Coma Ultime due Talle on Ultima Zaghi C'ho già Vabbè Non scambiamo Le minuto Persici Ragazzi Sembrava Impossibile Fare Peggio Dei pacchetti 81 Ma ci siamo riusciti E come potete vedere Abbiamo trovato un solo walkout Modric 3 85 Tanti 84 83 Che ho selezionato Che mi mancavano E poi abbiamo Il buon cubo Sempre Beh ragazzi Per questo video è tutto Mi raccomando Fatemi sapere qui sempre In un commento Non dimenticate di lasciare Un bel like In modo da sapere Se posso portarvi Queste altre sfide Magari adesso Ci sono grandi toddy Saranno molto interessanti Porteremo un altro video Come questo Se siete arrivati fino a questo punto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Da DoniTub è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Noi ci vediamo